Ad una settimana dalla prima riunione dell'Assemblea Consigliare si è tenuto il primo incontro del nuovo ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Presenti all'incontro il presidente Carmine Cicala, i vicepresidenti Vincenzo Baldassarre e Mario Polese e i consiglieri segretari Giovanni Viziello e Gianni Leggeri. L'organismo ha compiuto un'attenta disamina delle questioni da affrontare nell'immediato e ha deliberato alcuni atti che consentiranno alla macchina regionale di entrare nel vivo delle attività e tra questi l'assegnazione dei fondi per le spese di funzionamento ai gruppi consigliari e alcuni provvedimenti di carattere finanziario. L'ufficio di presidenza, che resta in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili, oltre a garantire e tutelare le prerogative e i diritti dei consiglieri, tutelando il rispetto dei diritti delle minoranze, assicura il funzionamento degli uffici del Consiglio, decide sulla regolarità delle proposte di iniziativa popolare e sulla missibilità del referendum abrogativo.